Ciao a tutti, sono Angela, oggi vi spiegherò come fare un angioletto, veloce, veloce, in modo facile, 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 per rallegrare il vostro albero di Natale, per addobrare il vostro albero di Natale, questo e questo qua, semplice, semplice, fatto col fetto, per fare questo angiolettino qua, ci servono del feltro, spesso, così, color panno, del feltro, sempre spesso, così, color rosa pesca, per fare la faccia, del panno lenci a righette, così, oppure anche della stoffa non importa, io preferisco il panno lenci perché quando lo taglio non si sfilaccia, poi ci serve un po' di nastrino, di pizzetto, ho usato questo, ma va bene a qualsiasi cosa volete, dello spago sottile da cucina, semplice, che trovate in passi al supermercato, dello spago un pochino più grosso, come questo, per fare i capelli, e del cordoncino, sempre beige, per fare le braccine, poi ci vuole filo, nero, filo mattone, ago, per fare gli occhi e la bocca, poi ci servono ovviamente le forbici, per tagliare il filtro, e la mitica colla caldo, ora, io ho preparato due forme di cuore, questo cuore qua, tagliato con la mitica big shot, perché io amo la big shot, perché mi fa fare le cose molto veloci, e ho usato questa postella qua, per tagliare questo cuore, che sarebbe qua, poi ho tagliato quest'altro cuore per fare gli ali, ed ho usato quest'altra postella qua, questa qua, se non avete la big shot, non importa, basta che tagliate un cuoricino così, con le mani, con le forbici, e un altro cuore così, oppure un triangolino, come preferite, per fare il corpo, poi ho togliato un altro cuoricino per fare il vestito, col panno lenci legato, e ora cominciamo, detto tutto questo, poi ho tagliato un tondino con il panno lenci color pesca, un tondino velocissimamente, senza figure sotto da seguire, basta fare un cerchiolino così, veloce e veloce, poi ho preso l'ago e filo, e ho fatto gli occhietti e la bocca, così, potete usare benissimo anche un pennarello, non importa, un pennarello nero per gli occhi, un pennarello rosso, io mi piaceva fatto con l'ago e il filo, per cui l'ho messo, e ora andiamo a vedere come fare a comporre il nostro angioletto, allora, mi ha preso questo, vediamo se riesce a venire bene, questo, facciamo il corpo, dove stiamo, sul giro della vostra parte, ho preso la mia colla a caldo, ho messo la colla lungo i bordi del cuore, ok, e l'ho attaccato sopra il vestitino dell'angioletto, l'ho fissato un po' con le dita, ma non l'ho applicato del tutto, ho lasciato l'angoletto qua, in alto, ho preso un pezzo di spago, l'ho tagliato, ho tagliato un 20 centimetri, circa, 20-25, l'ho doppiato, ho fatto un nodo all'estremità per fare le manine, ecco qua, ok, l'ho aperto più lungo sembra, tagliamo qua, e tagliamo qua, velocissimamente proprio, poi, siccome non avevo, applico le mani, in mezzo così, e adesso posso chiudere, se la colla a caldo, come in questo caso, se è asciugata, e io ne metto ancora, ecco qua, così, ok, adesso finiamo il vestitino, prendiamo il nostro pizzetto, prendiamo più o meno le misure, così, tagliamo, un pezzettino, ci mettiamo sempre un po' di colla, ok, ne attacchiamo bene, bene il pezzettino, ah, non vi ho detto che servivano i bottoncini, ci mettiamo un bottoncino rosso, e ci prepariamo a mettere le ali, allora, prendiamo il nostro corpo dell'angio letto, e mettiamo un po' di colla qua, e lo posizioniamo un po' stortino, le ali, un po' stortine così, prepariamo la testolina, gli prendiamo il nostro cordoncino, tagliamo dei pezzettini, uno, più o meno uguali, per fare i capelli, tre da una parte, e due dall'altra, più o meno uguali, dopo li andiamo a spuntare, quando li abbiamo messi, non importa, e mettiamo la colla calda, così, per fare i capelli, bene, bene, così, e così, così, ora, mettiamo la colla calda, anche da quest'altra parte, e ci attacchiamo, gli altri pezzettini, uno, e due, ecco qua, così, adesso gli aggiustiamo un po' i capelli, perché sono un pochino, mettiamo un po', un po' stufarito, un po' spettinato, sto angio letto, e li aggiustiamo così, ok, adesso, siccome ce li ha troppo lunghi, li rispuntiamo con le forbicine, ecco qua, c'è la parrucchiera, ecco, ok, adesso, un'ortangio letto è quasi finito, prendiamo il nostro spago, da cucina, e prendiamo un pezzettino, lo doppiamo, lo doppiamo, lo doppiamo, tagliamo un pezzetto d'acqua, e mettiamo un po' di pezzetto, a caldo, qua, spero che si veda, l'appoggiamo qua, penso a scottarsi, come ho fatto io adesso, e poi, mettiamo la colla dietro la testa dell'angioletto, ok, e io le lo metto un po' un po' di stortino, ed ecco, un gioletto, tutto questo, così, anche con i capelli corti, usando i pezzettini che vi sono rimasti, questi angioletti qua, sono carini, vero? E poi se li potete appendere, sul vostro albero di Natale, oppure fare altre composizioni, adesso vi mostro un'altra cosa, oppure fare una composizione, adesso questa qui l'ho fatta un po' a busticcio, perché era così, potete fare questa bella virulanda, appoggiate con gli angioletti, appoggiate, insomma proprio appoggiate, spero vi sia piaciuto, ciao! Grazie! 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 Grazie!